Avieri qui Goldrack, Mandrake sei in ascolto? Ah no, stai a fare un casino, io so Goldrack, tu sei Mandrake, abbiamo fatto le cose la settimana scorsa e non ti ricordi più niente. Avieri Goldrack e Mandrake, a me mi sembrano tutte stronzate. Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono, che vuol dire, vuol dire che... Che davi inda il culo! Ceccio, siamo stati condannati Ceccio! A cammeria arriva sta pizza? Ma maresciato, io vi ho chiesto una pizza napoletana! Tiè, mangi questa! Che merda! Fece mettere la sveglia alle 7.51, cioè al limite delle possibilità umane. Guido Baldo Maria Ricciardelli fu costretto a vedere ininterrottamente Giovannona Coscialunga, l'esorciccio e la polizia si incazza. Papà, facciamo un festino con gli amici di Bongo. Ah, un festino con gli amici di Bongo? Ah, come umano lei! Escalibur! 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 Escalibur imbecille! Ma che è sta roba! Duperabone! Quanta roba è! Quanta! Quanta roba! Quanta! Quanta roba! Questa ammazzamina di cimice? Maccherone! Mai provocato! E io ti distruggo! Ma vado magno! Sono un amico di Manolo! Peccaso Manolo sta là! Ma va a cagare te Manolo! È cambiato di carattere! Occhio malocchio per insieme al finocchio! Io ti battizzo contro il malocchio! Col peperangino! Un po' di insanete! Protegge la Madonna del colonete! Col limone! Il sole! E l'aceto! Protegge la Madonna del sorpeto! Corno di bue! La testa di melchermeta! Protegge questa casa! Dall'innomileto! Caetano! 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 Ma che sangra e miseria messa a luccare questa maniera? Di coglione! C'è pure chi è andato alla televisione a vedere un po' chi è su strunzio che è questa maniera e che cosa può fare di qua!